Attenzione, Rosalinda fa le cappelle, in realtà sono pesca Ma che fa... Puuuuh, è quella chi la prende Nessuno la prende quella Sono tre Ciao bambini Ciao bambini Oggi siamo con un bambino come voi, come me anche Siamo tutti bambini Oggi siamo con Electric Topic qui, che non si vede A cui è stato regalato, da parte di Papo e mamma Mario Tennis Aces è uscito pochi giorni fa Perché è stato bravissimo a danza lui Lui fa i pop e spacca davvero i culetti Davvero un uomo top Ha fatto perfino la gara e perfino il saggio Ha fatto sia gara che saggio Siamo andati all'Aquila a fare la gara di pop Io ancora non ho mai giocato questo gioco Ci ha giocato lui soltanto ieri sera E ora mi insegnerà, spero Andiamo avanti lui Vabbè in verità c'era il tutorial C'era il tutorial che io non ho visto Vogliamo fare insieme in squadra Quindi scegliamo i personaggi Bambini Chi mi scelgo io? Tu che ti scegli? Vediamo tu che ti scegli Ehi, attenzione Bowser Junior è forzissimo Bowser Junior? Fai casuale Per i cattini Casuale, io preferisco sempre casuale Beh io inizierei con uno Yoshi Penso Anzi no, con una Rosalinda Io gioco soltanto con le femmine In tutti i giochi Dove si può scegliere una femmina Io scelgo le femmine Perché sono belle Forse anche te dovrei farti una fianzata Oddio Mi oddio Quando te lo dice tuo figlio Ma siamo in una squadra diversa Siamo in squadra diversa? Sì Perché? E che ne so io Vabbè iniziamo così Io e il computer contro di te e il computer Mi devi spiegare le cose però Allora Con questo sopra Sì Se schiacci due volte Fai o il salto O puoi chiare i compi Ok Oppure con questi qui Schiacciando Schiacciando i tasti Tutti questi Succedono i macelli Sì Ok iniziamo dai E se schiacci questi Sì Ti fanno mosse speciali Le mosse speciali mi piacciono Vai Sia con questo che con questo Faccio mosse speciali Sono diverse? Diversi Sicuro? Uno che schiaccia Vabbè Anche Pronti pronti Chi batte? Sei tu? Ah io sì Mamma mia che paura Ehi Non ci pensare No No Rosalinda Che fa quello? Che fa l'ustuta? Bravo Donkey Kong Bravo ragazzi Ah se l'è mangiata Ehi Io non sto fa niente Sto facendo tutto Donkey Kong Io non sto facendo niente Guarda fa tutto lui Visto? Visto che fa il tuffo lui? No No Wow Attenzione Grazie Visto? Ah Te l'è mangiata No No Primo punto Lasquattro ragioni Così? Di Bowser Junior Attenzione Upe Sto perdi Adesso devo battere Quindi su e Pam Bene Attenzione Che sto facendo? Oh eh Sì ciao Eh questo è un mosto speciale Eh era un missile Eh è un mosto speciale infatti Ma faccio pena Potevi parlarla con me Ma non so come si parla Quella Normalmente Ma che sta facendo? Sto facendo il tuffo Ma non si chiama Puoi rallentare? Ho capito Però non so come si fa Perché Donkey Kong si tuffa Io no Guarda io stavo lì Come un pirla Perché devi scacciare due volte questo Come già detto E fa il tuffo Wow è questo È questo chi lo prende Tu no Vabbè Numero uno Numero uno Però ma sono sui ciali Ma no Viva uno La squadra arancione Però adesso io ti faccio perdere Perché non sono bravo Che importa È proprio bravo E adesso Visto che te non sai fare i tuffi Ti rispiego i tasti Come si fanno i tuffi? Premendo due volte Questo sopra Due volte quello sopra Sia chiaro Scelgo la principessa Pesca Sono pronto Fai casuale sempre Chi sarà Adesso I casuali Chi sarà Che verrà sconfitto Dal team Electric Il team Papo e Pipe È Todd È una palla Non si chiama Cannozzo Cannozzo Non è vero? Cannozzo si chiama Ok ok Piano piano imparo Io c'ho la palla Dovrei giocarci per leggere il tutorial Vai 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 Ma io credo Io credo che te eri bravo Pan Ah io sto di là Tu sai Dobbiamo fare un gioco di squadra Gioco di squadra si In alto Quindi non puoi fare tutto te come io Facevo un Giancarlo Vai 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 Bravo Elettro e Topi numero uno Attenzione Schiaccia Distrugge con il punto L'avversario piange Attenzione Rosalinda fa le cappelle In realtà sono Pesca Pesca fa le cappelle Stava pensando ai mini pony E succede una cosa Scusa Scusa Pablo Che importa Che importa Tanto li recuperiamo sempre Come recuperiamo Quello è il tuffo Sì quello Quello in verità è lo schivo Lo schivo? Wow Attenzione Topi Distrugge l'avversario Lo fa mettere a piangere Si stropiccia Comunque Lo schivo di boss Era fichissimo Pam La tira alta Attenzione Quello come la prendevo Infatti E neanche io la prendevo Beh io si Va bene va bene Visto Quando quella Quella barra verde Benissimo La tira alta Attenzione Lo vuole fregare E Attenzione Pum Tira il missile Per la Ed è dove la tiri Dove Dove Ma che fa Pum E quella Chi la prende Nessuno la prende Hai capito? Con tre Principessa Pesca Porta a casa Il punto Pum Pum Ah e se avanti No attenzione Corri E come faccio? Potevi farlo Arrentamento Ci ho provato Non ce l'ho fatta Praticamente Attento Quello ci fa il culetto Vai di là Guarda 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 Tod Che salti Che fa Bra Uh attenzione Super Di sguincio Va Taglia tutto il campo E si porta a casa Il punto Gli avversari Piangono Dalla disperazione Electric Topic Fa piangere gli avversari Pensa un po Vai Che fa? Attenzione Principessa Pesca Fa un occhiolino E lui si impalla Dalla sua bellezza Guarda che scemo Infatti Schiaccia papo Vai Di cattiveria La tira alta Oh 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 Vuoi fare tutto te eh? Lido Hai detto che devi rallentare Come si fa? Non mi ricordo Come non ti ricordi? Sei tu quello che ci ha giocato Che sa fare cose Guarda Che è anche Giancarlo Giancarlo se lo ricordo E quella chi la prende? Con il tuffo? Può fare l'arrentamento Ti ricordo Ho fatto un macello 5 pari Non va bene Non va bene Questa mi sa che è l'ultima No No non ancora? C'è il 6 Dopo Dopo abbiamo vinto Dopo il 6 Ah bisogna fare due punti di fila Perché? Sì Vai vai Numero 1 Attenzione Li frega tutti Electric Topic Attenzione Sono troppo bravo Pronti? Palla dell'incontro Sei pronto papo? Questa ce la portiamo a casa E pum In alto Lo frega No Todd No Sì colpo al corpo E ci portiamo a casa La vittoria Prima vittoria Amici Das Tocchino Attenzione Facciamo l'ultima Sempre un'altra donzella Andiamo a provare La signorina Daisy Che guarda Che posizione Sciocca Che ha Tutti si è scelto Bousa Il signor Bousa Vediamo se è all'altezza Del suo figlio Bouser Junior Che fino adesso Ha spaccato i culetti Vediamo se anche Bouser Può spaccarli La verità Bouser È più forte Che Bouser Junior Ce l'ho io la palla Fai la palla Che ci fai con la palla? La tiro ovviamente Vai bravo Ok Tutto tuo Quella è tua È tua È tua Pam Cattivissimo Fai tutto tuo allora Io gioco E quelli indietro Non fanno Praticamente Uh colpo al corpo Attenzione Lo manda un attimo Fuori di testa Gli tira una ciambella Sulla testa E si porta a casa Il puntarello La ciambella Non gli faceva niente In casa Visto? Bravo Attenzione Carichiamo più il colpo Perché Se carichiamo il colpo Yes Bravo Quello sì Che è un blocco Attenzione Bravo No L'ha presa Proprio per un peletto Guardate Che cos'è? Che cos'è? Ecco questa è la mostra speciale Ma come hai fatto? E Con la barra di raccai Vai vai Sparala Di cattiveria Attenzione Vedete che si rompe anche La racchetta Si è rotta pure la racchetta Pensate K.O. Che vuol dire K.O.? Che per loro è K.O. Cioè tu con un tiro supremo puoi vincere la partita Non ho capito Sì Ma che è davvero? Ma è scorrettissimo Anche se sei uno Praticamente se gli rompi la racchetta è finita Sì Dai allora fai continua a giocare Facciamo l'ultimissima E poi chiudiamo questo episolo Episobilo Sempre tu sta palla Tira sta palla Vai tu Wow attenzione Va a tregare Noi dobbiamo caricare più il colpo In modo che facciamo la mostra speciale Ok ho capito Quindi devo caricare i colpi Non c'è un problema Pam Uppum Bravo bravo Qui ce ne vuole un'altra Guarda qua Pam Pam Attenzione Uh uh Lo va a fregare Lo va a fregare Invece no Invece sì Lo frega Daisy Attenzione Manda di sguincio questa palla E nessuno la può raggiungere in questo modo Pronto prendila Ok Mi ho presa Qui ce ne vuole un'altra Verso Peach Attenzione Ma sto speciale Ma adesso se lo rimandi K.O. Che succede? Che vinciamo di nuovo così a gratis? Sì Ma perché devi fare per fare K.O.? Tirarli e va addosso? No E lei la para Lei la para Gli si rompe la racchetta E perde Finisce così? Mhm Ma che cosa crudele è? Ma chi si è inventato questa regola da Nintendo? Ma è cattivissima Ma è figa però È figa però finire una partita così mi sembra ingiusto Tipo carichi la mossa speciale Distruggi il mondo E finita lì Finita la partita E poi deciderete quando O farla o non farla Questo è tutto per questo videolo Vi saluto anche Electric Topolo Ciao ciao Mi ricordo di mostrare tanto amore al pulsante qui sotto a forma di pollice in su Stai facendo un sacco di casino con questa cannuccia davanti al microfono Te la apro io Guardate Electric Bello E sta prendendo la cannuccia al suo Electric Topi Eccolo Iscriviti se non sei già iscritto e se non lo sei berri media subito Sei un zu 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 Rellone Ma soprattutto non scordarti che questo è Electric Eccolo Esatto